questa sera per il consueto appuntamento delle 21 delle storie della domenica parleremo di un romanzo fiabesco per bambini che vi suggerisco di leggere pubblicato nel 1906 il libro nasce come libro di geografia per le scuole ma è diventato un capolavoro in tutto il mondo l'autrice è una scrittrice svedese selma lagerlof prima donna a vincere il premio nobel per la letteratura nel 1909